Sono 37.195 gli infermieri iscritti all'albo in Veneto, ma all'appello ne mancano 5.000. È una cronica carenza quella che alla vigilia della giornata internazionale dell'infermiere registra il sindacato Nursing Up, alla quale si aggiunge la perdita di appilla di una professione che vede un continuo calo delle iscrizioni ai corsi universitari, nonostante l'aumento dei posti, con una diminuzione delle domande per l'anno accademico 2023-2024 del 20% per l'Università di Padova e dell'11% per quella di Verona. Gli infermieri mancano perché se ne vanno dalle strutture pubbliche verso attività di attività libero professionali piuttosto che nel privato, piuttosto che in contesti dove il guadagno è sicuramente più significativo. Dati Isat alla mano, lo stipendio anno di un infermiere si aggira sui 24.000 euro, ben al di sotto di quanto accade in altri paesi europei, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Norvegia, tra gli altri, o in Arabia Saudita, nuova destinazione attrattiva per gli apprezzatissimi infermieri italiani. A questo si aggiungono condizioni di lavoro sempre più difficili. Richiami continui in servizio, le ferie non assegnate anche quando chieste, la spostamento in reparti sovraffollati di pazienti. Allora il tutto, diciamo, le due cose sono un connubio. L'una non esclude l'altra perché le condizioni di lavoro peggiorano sempre di più per la carenza, e la carenza è figlia della questione economica e non solo. Le richieste sono chiare. Il governo deve investire e ridare dignità economica alla professione, con rapidi rinnovi contrattuali e l'aumento di fondi, per porre rimedio a una situazione che vede in Veneto fortemente a rischio, soprattutto i presidi sanitari più disagiati come quelli montani e pedemontani.